...un protagonismo attivo della nostra base territoriale. Allora, si esce da lì. E' la 4 quadri una finezza, visto che stanno lasciando una corretta. Allora, quindi ascoltare la destra cosa vuol dire, secondo me? Alzardo cacicci, cerchiare di capire. Qui a questo tavolo, vedete, se, quando venire, se, quando venire, se, quando, me, al posto, alla prima di noi che stanno qui. Noi siamo ex parlamentari. Ma dovete comprendere che noi non viviamo questa condizione con straordinaria sofferenza. Certo, la vita è più comoda con lo stipendio, ma non può essere quello la motivazione della lotta politica. Noi ci comportiamo in questi incontri, dovevo dimostrare, e le iniziative che assumeremo, durante questo momento, un po' con l'italiano, esattamente come se fossimo in parlamento, con lo stesso stato d'animo, perché dobbiamo essere fieri che quella che si è condotta, il 13 e il 14 aprile, è stata la prima bella battaglia politica della nuova destra italiana, ma dobbiamo anche essere fieri e consapevoli che non è stata l'ultima bella battaglia politica della destra italiana. Perché ne dobbiamo essere orgogliosi di questo. e che abbiamo costruito qualcosa, non in cinque mesi, come erroneamente, come io ho detto, ma provando l'intera battagliera, in questi cappagliatroni, ma in due mesi, e sempliorano a spiegarvi perché. Perché lo stato d'animo deve essere lo stesso, l'abito mentale è lo stesso? E se io vi faccio un esempio, vogliamo il caso, che come è stato consentito la Lega, come è stato consentito la Lombardo, come stava per essere persino consentito la D.C. di Pizza, forse è stato consentito anche a noi di stare con la coalizione che consideravamo naturalmente il nostro simbolo, noi staremo in Parlamento. E caro Presidente, sono sicuro che avremmo rispettato, perché siamo persone reali, i pa con la coalizione, e avremmo persino votato il Presidente della Camera che era stato indicato dalla coalizione. State certi che ci sarebbe stata qualche novità, perché non avremo le fini nel suo discorso di impegnamento, non si sarebbe mai permesso di celebrare il 25 aprile e il primo di maggio perché i nostri deputati lo avrebbero fischiato. Non perché non lo doveva fare, perché posso capire, diventi uomo delle istituzioni, devi rappresentare tutti, non di loro con la loro, di loro con il politico, ma c'era tanto di mare. Questa è la settimana in cui riguarda il menternale della morte, ma c'era tanto di mare a dire io rappresenterò tutti le peste comandate da noi che ci sono mai di rinunciare al ricordo dell'uomo che mi ha preso nel male e che mi ha portato a preso in grado. di mi ha portato a preso in grado. Ma c'era tanto di mare, ma vabbè anche di dire che è cambiata proprio una risposta in intanto, c'è diversi appalanzo rispetto a quello che ci parliamo. C'è il contrario nostro. Si può, e mi dispiace mettiamo a creare il nostro, perché comunque parliamo di personalità che hanno condiviso lo stesso nostro percorso. Poi ci separiamo perché non condividiamo più nulla, ma quando tu rinunci alla bandiera tua, non si può dire che la bandiera di un altro paese è più importante della vita di un ragazzo ammazzato con una sigaretta a Verona. Allora capite che qui c'è qualcosa che non guarda. Allora dobbiamo ragionare sul da farsi e su questo vi voglio proporre alcune cose. E' chiaro che la nuova situazione politica determinata dal rinnovo del Parlamento deve essere chi sta attentamente. Per questo prende anche questo dibattito. Il dibattito si svolgerà, saranno gli interventi che lo sugo da prenderà l'opera, gli interventi di chi vuole iniziare a parlare, e poi le conclusioni le comprofano, se poi la trova la bandiera di un certo proprio ruolo, ovviamente la mia non parcerà in un momento in cui ci sarà a intervenire. Grazie. 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 Grazie.